eccoci qua signori allora questo video è sostanzialmente abbraccio ma porta avanti un discorso molto molto serio molto molto importante un discorso a me stanno danno assolutamente fastidio le cose che stanno storte mi fanno proprio incazzare allora intanto continua a stare storto comunque non è questo il punto allora questo video nasce perché una persona mi ha contattato e mi ha chiesto se potevo regalargli del denaro perché perché dice di aver perso tanti soldi con le scommesse il che in anni che sto sostanzialmente qui sui social e che comunque sto man mano prendendo sempre più confidenza con questi particolari strumenti che sapete che molto spesso io odio anzi sempre io odio ecco spesso è successo che qualcuno arrivasse e mi chiedesse del denaro di prestare del denaro in questo caso siamo di fronte a un classico esempio un esempio di una persona che non riesce a guadagnare delle scommesse ma che sistematicamente butta denaro butta denaro allora io appena questa persona mi ha scritta ovviamente per curiosità sono andato a cercare sono andato a cercare di capire se avevamo avuto rapporti o comunque contatti in passato anche perché dovete sapere che io spesso mi dimentico delle persone spesso mi dimentico di tutte quelle persone che non lasciano un peso che non danno qualcosa di essenziale anche con una conversazione non sono non danno niente sostanzialmente in una conversazione in un rapporto quindi ovviamente io me ne dimentico avendo a contatto stando a contatto con moltissime persone quindi cosa succede che sono andato a ricercare questa chat molto brevemente e ho visto che nel lontano 2018 fino al 2017 questa persona ne aveva scritto a chiare lettere ho trovato una strategia incredibile per guadagnare dalle scommesse attendibile al 100% si guadagna sempre utilizzala anche tu ovviamente molti anni fa io che non avevo dimestichezza con i social e che soprattutto avevo ingenuamente il timore di offendere la persona davanti a me avevo fatto capire però a chiare lettere non in maniera dura come lo faccio oggi questa ovviamente era la mia colpa ma non in maniera dura come lo faccio oggi ma l'avevo fatto capire in maniera abbastanza chiara che quella non era l'aria di andare da nessuna parte questa persona ovviamente negli anni come anche mi hanno dimostrato i suoi messaggi ha proseguito la sua strada di perdizione diciamo così non è questione di fare delle cazzate è questione di spingere e continuare in una direzione totalmente sbagliata credendo che sia possibile guadagnare in maniera poco professionale e costantemente dalle scommesse ok il concetto è questo è possibile guadagnare in maniera professionale dalle scommesse ed è possibile farlo in maniera costante ovviamente ci saranno sempre i periodi di varianza ma questo è un altro discorso cosa succede? è che quando una persona di questo tipo ti contatta e tu eri stato abbastanza chiaro già all'epoca nel lontano 2018 succede che capisci la differenza che c'è fra una persona che vuole avere un percorso di vita semplice, lineare, logico basato sul pragmatismo che vuole ottenere risultati concreti nella propria vita e chi vive assolutamente in un altro mondo in quel caso c'è stato un Cristian Rocconi che in maniera assolutamente delicata possiamo dire così ho portato avanti ovviamente la realtà dei fatti e ho mostrato come e ho detto chiaramente che non era possibile assolutamente portare avanti un discorso di quel tipo con questa strategia basata sulle quote a 1 e 0 una follia pazzesca una follia pazzia cioè solo questo termine può sintetizzare però qual è il concetto? ecco ovviamente io sono stato chiaro ad oggi io me ne do delle responsabilità perché qual è il punto ragazzi? il punto è che prima ero più delicato quando dicevo le cose ad oggi vedete sono molto più duro ed è proprio forse secondo me con questa persona non sarebbe cambiato nulla ma è proprio forse questo atteggiamento mio nei confronti delle persone che spesso sbagliavano e che sbagliavano in passato io ero un po' troppo delicatino oggi invece bisogna essere duri bisogna essere duri perché la vita mi ha insegnato che bisogna mettere i puntini su lei bisogna far capire direttamente anche a brutto moto a brutto muso quello che si sta dicendo perché molto spesso le persone non capiscono si offendono ma questo a me non interessa io sono un professionista sono onesto intellettualmente e quindi devo assolutamente portare avanti il mio bagaglio di esperienze oggi nel 2021 quello che vedete è semplicemente il mio ufficio oggi nel 2021 io dopo aver guadagnato decine di migliaia d'euro venne fatta guadagnare ancora di più probabilmente con le scommesse oggi io sono qui nel mio ufficio non c'è bisogno che io ostenti nulla poi nei prossimi mesi o comunque nelle prossime settimane vedrete l'ufficio proprio perché cercherò di essere con buona pace di facebook instagram e anche whatsapp se riescono a rimanere sintonizzati cercherò di essere più presente ma qual è il concetto il concetto è che io nel 2021 mi sono tolto le mie grosse soddisfazioni mi tolgo ancora oggi le mie grosse soddisfazioni ho fatto guadagnare e faccio guadagnare le persone costantemente nei mercati sportivi però ci sono delle persone come questa come questa persona che continuano a avere un atteggiamento sbagliato lo protraggono per anni e anni qui stiamo parlando del 2018 sono passati molti anni ormai e che poi alla fine questo comportamento porta delle conseguenze estremamente spiacevoli perché capite bene che se prendete come se prendete una strada totalmente sbagliata e continuate a sbagliare senza fregar sostanzialmente fregandoveni di quelli che sono i risultati perdo anche le parole la strada sarà sempre in salita sarà sempre estremamente difficile e vi porterà al declino totale sappiatelo quindi questo è solo l'esempio questa persona è solo un esempio invece un percorso virtuoso basato su obiettivi tangibili concreti con un percorso professionale nel mondo degli investimenti come sentite sempre notifiche sotto ci sono però vabbè un percorso professionale nel mondo degli investimenti scusate mi distrago perché vedo le notifiche e i messaggi è un percorso basato sulla logica sui dati e sulla matematica e non sulle strategie come questa persona portava avanti questo discorso stranissimo senza senso senza alcun peso logico veramente dicendo che esisteva questa strategia che lui si era inventato perché il problema è che queste persone non hanno spesso nemmeno l'umiltà per capire qual è il loro posto nel mondo sapete non tutti siamo fatti per una determinata cosa anzi pochissime persone con poco talento sono in grado di entrare in una strada prendere quella strada prendere quella direzione ed esprimersi al meglio ne sono fenici ne sono entusiasti anche senza avere risultati economici quindi il consiglio che io posso dare alle persone è che se voi volete guadagnare professionalmente dal betting affidatevi a un vero professionista come fanno tante persone in football pro poi ci sono gli storici tutti da quando football per partito fino ad oggi con ottimi risultati eccellenti roba pazzesca mostruosa perché c'è l'operatività di chi lavora tutto giorno sul campo c'è l'operatività di una persona che prima diceva le cose un po' troppo delicatamente e oggi in virtù del fatto che ha acquisito tantissima esperienza e che ha acquisito un bagaglio di competenze estremamente solido e si rende conto di quanto la delicatezza a mio dire faccia male perché certe persone non capiscono probabilmente come dice qualcuno non avrebbero certe persone non capirebbero comunque è ovvio questo è assolutamente chiaro è possibile assolutamente che la maggior parte delle persone non capiscano comunque però il punto è che per mia onestà intellettuale dove essere il più diretto possibile allora il concetto è che voi in questi anni mi avete conosciuto poco mi avete conosciuto poco perché ho avuto l'esigenza di farmi conoscere poco come la penso quale direzione quale direzione sto prendendo nella mia vita e questo credo che riguardi anche l'intimità di un soggetto è ovvio che a un certo punto non si può divulgare tutto non si può distribuire tutto e c'è sempre bisogno di avere non dico una maschera ma di avere un certo grado di intimità e questo è ovvio io sono uno dei dei fautori della della privacy veramente cioè nel senso che amo molto la privacy per quale ragione nemmeno sapevate della praticamente della costruzione dell'ufficio effettivo addirittura costruzione capite bene e non sapete tante altre cose quello che sapete è quello che vedete dai risultati dai risultati dei prodotti operativi che fanno fede più dell'operatività personale perché l'operatività personale può essere distribuita ma come vedete il grado di ciarlataneria di tanti personaggi è arrivato a un livello così alto così alto che ormai il 98% delle persone non riesce a capire la differenza fra un ciarlatano e un altro non riesce a capire la differenza fra un ciarlatano e un professionista quindi è inutile ostentare è inutile mostrare è quello che bisogna fare semplicemente portare avanti i numeri dati risultati il futuro però non è la prova evidente pro trading è la stessa identica cosa e via discorrendo quindi cosa si può fare in questo momento storico innanzitutto bisogna prendersi le proprie responsabilità bisogna affidarsi a un professionista bisogna utilizzare il cervello bisogna utilizzare la testa bisogna essere pragmatici bisogna stare con i piedi per terra bisogna conoscere se stessi che è una cosa estremamente complessa e difficile perché è facile vendere corsetti dal nulla con informazioni fuorvianti fallimentari datate che non funzionano più figuratevi che non funzionavano all'epoca figurati figuratevi se funzionano oggi quindi capite bene di quello di cui stiamo parlando un'altra cosa che non sapete del sottoscritto è che io amo muovermi molto quindi in relazione al fatto che il rapporto al fatto che sono molto seduto durante la giornata io devo muovermi molto quindi i miei video da ora in poi saranno ancora più mossi di quelli che sono stati in passato però a parte questo questo per esempio dipende dal mio carattere dipende dal fatto di essere sostanzialmente irrequieto questo fa parte del mio essere se voi non conoscete le vostre abilità personali se voi non conoscete i vostri difetti perché non li accettate se voi non conoscete voi stessi non potete intraprendere un percorso serio concreto nella vita e soprattutto non sarete mai felici perché perché vi sentirete sempre un pesce fort'acqua il betting rappresenta la mia vita il betting le scommesse i dati i numeri rappresentano la mia vita molto più del discorso molto 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 di più del discorso meramente legato al calcio il calcio è qualcosa di sostanzialmente paradossalmente distante da quello che è il lavoro di un professionista sul mercato che analizza dati numeri si serve di informazioni qui signori è giocare al piccolo Sherlock Holmes e se non avete la testa per farlo dovete avere l'umiltà di accettare questa cosa e di darvi ad un'altra cosa nella vita ovviamente volete guadagnare da questa attività volete divertirvi da questa attività ottenendo un'entrata fissa mensile fissa si fa per dire ma comunque un extra mensile in base a un vostro investimento affidatevi a un professionista prendete delle scelte che sono estremamente legate al vostro vissuto e soprattutto sono legate al concreto a qualcosa di tangibile accettate il fatto di non essere capaci a fare una cosa e delegatela a qualcuno più capace di voi questo è il segreto per fare soldi nella vita a me piaceva giocare a calcio facevo schifo non ho mai iniziato avrei dovuto iniziare probabilmente sì ma facevo talmente tanto schifo che non faceva per me però mi è sempre piaciuto tant'è che poi ho preso una strada totalmente diversa con buoni risultati anzi direi veramente ottimi risultati questo per capirci questo vi fa capire una cosa molto interessante vi fa capire che qui non è questione fare soldi uguale supereroe no fare soldi uguale avere intelletto avere una capacità mentali avere delle capacità mentali nella media o poco superiori tanto se spetto il desktop e avere un percorso serio avere l'equilibrio qua allora ragazzi l'equilibrio ve lo sta dicendo vi sta dicendo di tenerlo un folle avere equilibrio cosa vuol dire avere equilibrio non vuol dire essere una persona equilibrata che sono due cose differenti allora spesso chi affronta questo lavoro in maniera professionale e ha dei risultati non è una persona equilibrata nel proprio stile di vita non è una persona convenzionale quindi è ovvio che voi dovete capire che se voi avete una vita normalissima e non è la vita del professionista perché un professionista non ha una vita normale voi non potete o meglio potete provarci ovviamente se è una cosa che vi nasce da dentro dovete farla nessuno vi dice nulla però sappiate che potenzialmente difficilmente avrete dei risultati se lo fate in maniera autonoma quello che potete fare è delegare il segreto per fare denaro è delegare se io non sono capace o se io non ho abbastanza tempo per dedicarmi a quella particolare professione ma quella particolare professione mi fa guadagnare in questo caso parliamo di investimenti sportivi allora è il caso di delegarla delegare avere umiltà avere umiltà è anche questa la chiave è molto importante quindi oggi questo video parla un po' di tutto non parla un po' di niente però è un video che vi permette di capire alcune cose innanzitutto vi permette di capire come vive un professionista e la vita di un professionista è estremamente complicata quindi o vi piace o non vi piace ma se non vi piace non dovete assolutamente intraprendere questo percorso perché sarete scontenti sferici non guadagnerete sicuramente sicuramente farete dei danni e quando farete dei danni se vi piace la professione è il vostro stile di vita la vivete in questo modo molto facilmente riuscirete a uscire dalle situazioni difficili guadagnerete e avrete delle competenze solide ma molto solide ma se a voi non piace questo percorso perché vi sta stretto è una vita monotona perché è una vita sostanzialmente monotona anche se regala molta adrenalina allora dovete lasciarla stare delegate affidatevi a un professionista affidatevi al concetto di investire seriamente del vostro denaro con un investimento che non sto qui a ripetere ha dei vantaggi assoluti quindi è inutile starlo a ripetere e vi farà guadagnare se vi affidate a un professionista e se avete un atteggiamento professionale da investitore quindi cosa succede? qual è la differenza? la differenza è che se voi utilizzate la vostra testa se voi prendete delle scelte concrete reali, tangibili e delegate guadagnate e avete un futuro e potete dedicarvi a ciò che la vostra vita naturalmente vi indirizza a fare perché ognuno ragazzi ha il proprio talento e ognuno ha le proprie capacità ognuno vive in circostanze diverse ha possibilità diverse è inutile infatti andarsi a paragonare un'altra persona andarsi a paragonare una persona che magari ha un trascorso diverso vive in circostanze diverse personalmente un africano non può paragonarsi a un europeo ha disponibilità diverse ha una vita totalmente diversa deve lottare per qualcosa di essenziale mentre l'europeo ovviamente nella maggioranza dei casi si intende ha a disposizione acqua cibo risorse e tante altre cose mezzi questo è molto importante quindi paragonarsi a una cosa totalmente stupida sbagliata so che tanti vendono con il senso di frustrazione problemi loro problemi loro che il marketing è becero di questo di questi decenni ma sono problemi loro quello che dovete fare è semplicemente trovare la vostra strada e se volete guadagnare dal betting operativo affidarvi a un professionista semplice molto semplice però se voi continuate a prendere una direzione sbagliata continuate a affidarvi a ciarlatani continuate a parlare di statistiche continuate a parlare di strategie nel betting exchange continuate a parlare di strategie come questo ragazzi questo è il caso proprio emblematico è il caso del secolo cioè questo ma io ho trovato una strategia incredibile sto facendo soldi falla pure tu dai oggi si trova con le pezze al culo perché non è il problema di strategia che è un problema ma è quello che deriva da un'azione di questo tipo sbagliata e continuamente ripetuta nel tempo cioè bisogna essere più smart bisogna capire in che direzione si sta andando allora se voi capite quali sono i vostri difetti quali sono i vostri vantaggi se voi ottenete avete umiltà e intraprendono il percorso l'umiltà ragazzi questa è un'altra cosa che vi devo dire ma spero che molti voi la capiranno e spero che molti voi la sapranno questa cosa l'umiltà non vuol dire strillare anzi più che altro l'umiltà è qualcosa che c'è dentro quando io incontro una persona che ne sa più di me io sono umile perché? perché l'umiltà mi porta un vantaggio perché essere umile mi permette di attingere dalle conoscenze di quella persona se io sono un bastardo di quelli che se ne fotte totalmente il cazzo di quello che la persona davanti a me ha da dire io non posso né valutare se quella persona è estremamente competente e quindi probabilmente anche più brava di me e non sto parlando del discorso beh ti sto parlando della vita generale e poi non posso attingere alla sua conoscenza perché metto un muro o freno quindi cosa vuol dire sostanzialmente non essere umili vuol dire essere stupidi ma attenzione online o comunque persone tante persone si mettono una maschera logicamente perché? si mettono una maschera perché questa umiltà molto spesso per le persone è sintomo di debolezza ed è vero la maggior parte delle persone sono imbecilli se ti fai vedere umile sei un debole ma quello che non capisce la maggior parte delle persone è che l'umiltà c'è da dentro quando una persona ovviamente come il sottoscritto si vanta dei propri risultati ma perché i risultati sono concreti tangibili perché tanti parlano e non hanno quei risultati tanti venono della merda ma sostanzialmente non hanno mai avuto quei risultati ma nemmeno lontanamente quindi è ovvio che uno sia orgoglioso del proprio percorso sia orgoglioso della propria storia come uno quando sbaglia deve essere critico al punto giusto non tanto da prendersi ammazzate sulla testa ma al punto tale da capire dove ha sbagliato e andare a migliorare uno deve essere contento ed entusiasta dei propri risultati quindi l'umiltà non sta nel dire non sta nel recitare quella parte che vedete online da molte persone che sembrano poco umili ma in realtà per imparare e per aumentare il livello bisogna essere umili quindi la recita della persona poco umile è perché purtroppo le persone non capiscono un cazzo le persone non capiscono che umiltà non vuol dire stupidità umiltà non vuol dire posso approfittarmi di quella persona umiltà non vuol dire quella persona non è competente e purtroppo al giorno d'oggi qualcuno un po' più sveglio ha capito che deve strillare deve fare il pagliaccio ormai abbiamo anche tanti pagliacci abbiamo l'effetto contrario abbiamo l'effetto esagerato nella direzione opposta però quello che dovete capire voi è che l'umiltà deve essere la vostra forza non puoi essere umile con una persona che ne capisce meno di te o che comunque in maniera saccente si pone davanti a te e ovviamente tu te ne rendi conto che ne sa meno di te ma lui continua a imporsi come se fosse chissà che cosa ovviamente l'umiltà deve esserci e l'umiltà se c'è l'umiltà si va avanti si migliora e grazie all'umiltà che sono arrivato qui non c'è bisogno di ostentare nulla per me l'ostentazione nasce dai dati dai numeri se io faccio dei grandi numeri porto uno yield molto alto se io porto una percentuale di profitto interessantissimo importante che altri si sognano con un drawdown bassissimo io me ne mando e non potrei fare altrimenti perché sarei se no sarei uno stronzo ipocrita e io non sono un ipocrita ma si sono stronzo ragazzi vi saluto e vi ricordo che tutto quello che facciamo nella nostra vita scelta dopo scelta certo esiste quella dose di fortuna e di sfortuna ma un'azione fatta bene nel tempo porta sempre risultati certi come un'azione sbagliata nel tempo porta al caso che abbiamo visto in questo video dell'esempio di cui vi ho parlato quindi sappiate che io continuerò ad essere duro con le persone perché spero possano capire con un certo atteggiamento da parte mia qual è la strada giusta oppure come avevo consigliato a quella persona di lasciare perdere totalmente il percorso del betting almeno in maniera autonoma ma in questo caso come gli ho consigliato anche stasera lasciare perdere il betting definitivamente e infatti non mi deve nemmeno più seguire ragazzi io vi saluto e ricordatevi uno stronzo cattivo è meglio di uno stronzo buono ciao